Andiamo al segno dello scorpione, per voi amici dello scorpione questa è invece una bellissima luna, amore sempre in primo piano in questo momento, una venere magnifica, romantica, sognatrice nel segno dei pesci, significa che per molti di voi sta per iniziare una nuova vita sentimentale, ma anche nei rapporti di coppia consolidati, c'è un'intesa fantastica con il partner e ve ne accorgerete proprio quest'oggi. Un'altra bella iniziativa di...